Martedì prossimo ci sarà un sopralluogo di comune soprintendenza su via 20 Settembre dovevano necessariamente cambiate le protezioni alla strada ormai vecchie danneggiate da una serie di incidenti. La situazione però potrebbe restare così per almeno due o tre mesi e già ieri nella prima giornata di semafori dopo la chiusura di parte della carreggiata e il senso unico con tre semafori ha mostrato i limiti di una soluzione che sta facendo inferocire gli automobilisti soprattutto i tanti che devono portare figli a scuola al mattino. Il problema filtra così da ambienti comunali è che il muro di contenimento che affaccia sul convento di Santa Chiara è degli anni 30 per questo serve lo che della soprintendenza per installare la nuova protezione. Il comune già dopo l'incidente di gennaio si era mosso per presentare un progetto per inserire nuovi guardrail ma quanto pare non combacia con le intenzioni della soprintendenza. Insomma se non ci si mette d'accordo subito la situazione è destinata a rimanere tale per molto tempo tra le lamentali dei cittadini e gli schiaffi delle opposizioni in comune. È inaccettabile però dico io che ci si accorga del problema sicurezza solamente dopo l'incidente di Mestre quando c'è stato invece un problema anche legato a dei sinistri da ben un anno a questa parte. È inaccettabile soprattutto che la politica, io dico la giunta comunale, si accorga e dialoghi con la città su questo problema quando sappiamo benissimo che c'è un problema con la sovrintendenza che dovrebbe essere risolto. La politica doveva essere più dialogante, lo doveva fare da prima senza arrivare a questa situazione di blocco del traffico come quella che c'è stata. Ma mi chiedo qualcosa in più e questa è un'altra situazione inaccettabile. Cosa succederà nel momento in cui anche Viale della Croce Rossa sarà interessata da interventi? Sappiamo benissimo che ci saranno degli interventi per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali rialzati e capite bene che ci potrebbe essere un blocco vero del traffico. All'Aquila abbiamo tre arterie che sono quelle principali, se ne blocchiamo due gli aquilani cosa dovrebbero fare? Ma soprattutto come si fa ad annunciare un intervento come quello che è stato iniziato ieri alle 10 meno 10 della sera prima? È inaccettabile, io credo che fare l'amministrazione sia una cosa seria e in maniera seria bisogna affrontare queste problematiche, dialogando con la città, dialogando soprattutto con la sovrintendenza che oggi non può bloccare una messa in sicurezza come quella che si deve fare lì su Via 20 Settembre.